Buon pomeriggio, siamo a lunedì 22 marzo. Iniziamo questa settimana riprendendo l'invito che il Papa ha fatto il giorno di San Giuseppe il 19, invitando tutti nei prossimi mesi a rileggere con attenzione e a riflettere su quella lettera che ha scritto già da 5 anni fa a Moris Letizia, una lettera in cui parla della famiglia, della bellezza, della ricchezza, anche delle fatiche che ci sono all'interno della famiglia. Però partiamo da questa riflessione. Dio ha voluto che suo figlio Gesù nascesse e crescesse all'interno di una famiglia. Allora proviamo a vedere quali sono le caratteristiche della famiglia di Nazareth, che poi sono le caratteristiche di tutte le nostre famiglie. Noi tutti viviamo in famiglia, siamo cresciuti in famiglia, ancora adesso viviamo in famiglia. Guardiamo un po' la famiglia di Nazareth così come ci viene presentata dal Vangelo, soprattutto dal Vangelo di Matteo. E guardiamo come poteva essere la vita di questa famiglia a partire dai sogni di Giuseppe. Innanzitutto parliamo della notte della decisione, quando Giuseppe durante il sogno si sente dire dall'angelo non aver paura a prendere per sposa Maria, perché ciò che nasce in lei, che cresce in lei, è opera dello Spirito Santo. Poi c'è la notte della dolcezza, la notte della nascita del bambino. Quando Giuseppe prende tra le braccia del bambino, gli dà un nome e quindi a tutti i livelli, anche quello legale, lui è il padre di questo bambino. Poi c'è la notte della fuga, la notte in cui si mette in gioco la responsabilità di prendersi cura di questa famiglia, di Maria e del bambino, affrontando anche il rischio del viaggio, il rischio di dover andare in Egitto per salvare il bambino. Poi c'è la notte dell'ansia e della disperazione, quando arrivati alla sera si accorgono che Gesù non è nella comitiva e quindi devono ritornare a Gerusalemme a cercarlo e sono preoccupati perché questo bambino non lo trovano e quando lo ritrovano si sentono anche rispondere in un modo un po' polemico, perché vi siete preoccupati. Io devo occuparmi delle cose del padre mio. Non è difficile per chi come me, come tanti di noi, hanno una famiglia, riconoscersi in queste notti, in queste preoccupazioni, in queste fatiche che Giuseppe e Maria stanno vivendo. È un'esperienza che ci accomuna tutti, che accomuna tutte le famiglie, chi ha generato i figli, chi li ha accolti in adozione o in alfido, chi ha aperto la propria casa a ragazzi in difficoltà per accompagnarli nella crescita. Tutti ci riconosciamo in questi momenti di gioia, di preoccupazione, di bellezza e qualche volta anche di domande e di dubbi. Giuseppe e Maria insegnano a ciascuno di noi qual è l'atteggiamento che dobbiamo avere. Dobbiamo tenere aperto il nostro cuore fidandoci di Dio. Giuseppe è padre, Maria è madre, perché accompagnano Gesù nella crescita, così come tutti noi siamo padri e madri nel momento in cui accompagniamo i nostri figli, i figli che abbiamo avuto personalmente o quelli che abbiamo in affido o quelli che abbiamo adottato, i figli che Dio comunque ci ha affidato. Il nostro compito è quello di vigilare, di custodire, di agire per la nostra famiglia, di darsi da fare per la nostra famiglia, lasciando però lo spazio a quel piccolo Gesù che abbiamo accolto nella nostra casa. Ogni volta che nella nostra casa entra un figlio, arriva un figlio, noi dobbiamo considerarlo come il piccolo Gesù che ci viene affidato. Allora chiediamo a Giuseppe di custodire tutte le nostre famiglie, ricorriamo a lui nei momenti di difficoltà, sicuri che lui ci darà aiuto, lui ci darà il conforto, ci darà il consiglio giusto e quindi non temiamo di affidarci a lui chiedendogli aiuto. Rivolgiamo allora a lui questa priera. Salve custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita difendendoci da ogni male. Amen. Buon pomeriggio e buona serata a tutti.